Unza è un cliente scomodo perché gioca un calcio bellissimo, il suo allenatore è bravissimo, secondo me il suo allenatore avrà un futuro molto importante e d'altronde ha dei dirigenti che sanno vedere dentro la testa delle persone, per cui uno come Gagliani sa scegliere le persone giuste e la scelta giusta in questo caso qui. Hanno ben strutturato nel comportamento e nella ricerca della testa quello che vogliono fare, vogliono giocare a campo aperto, per cui riportano sempre la palla dietro sui tre centrali e sul portiere perché vogliono costruire dal basso per avere spazio davanti da andare a attaccare velocemente, è una roba che diventa difficile da andare a prendere, da andare a opporsi perché lì c'è quello che abbiamo sempre fatto ma c'è il rischio di prendere quelle ripartenze che poi possono costare fatica di corsa e possono costare difficoltà perché si rischia di prendere gol. Tentando di portare dentro anche i discorsi che ci avete fatto si tenterà di stare attenti, si guarderà di stare attenti a non prendere queste ripartenze e queste azioni fatte in velocità da parte degli avversari, però contro di loro sarà difficile comandare il gioco perché hanno tecnica da vendere a metà campo, c'è Petagna che sappiamo tutti che valore di calciatore e che valore di uomo noi lo sappiamo bene abbia e c'è da vincere la partita perché noi vogliamo andare al di là di quelli che sono traguardi di punteggi di fine campionato, noi le vogliamo vincere tutte da qui alla fine, poi ci sarà da vedere se ci riusciamo.